in questo filmato vi propongo le olive fritte alla mia maniera occorrono delle olive nere dolci e fresche dell'olio extravergine di oliva della cipolla bianca del sale rosa dell'himalaya dei pomodori piccadilli e infine del peperoncino fresco dopo aver lavato le olive accuratamente le lasciamo scolare e intanto mettiamo dell'olio in padella facendolo riscaldare per poi aggiungere la cipolla bianca tagliata filanger la facciamo appassire e uniamo le olive una bella rivestata e copriamo dopo alcuni minuti aggiungiamo del sale rosa dell'himalaya sale con proprietà simili ai sali contenuti nel nostro corpo umano si che fa meno male e del pomodoro tagliato a spicchi o a cubetti ed ora aggiungiamo l'ultimo ingrediente quale il peperoncino in quantità a vostro piacimento rimestiamo più volte fino al raggiungimento della cottura non più di 5 minuti da questo momento in poi ed ecco il risultato finale le olive saranno pure caloriche non lo metto in dubbio ma sono una miniera di omega 3 e aiutano anche ad abbassare il colesterolo se la ricetta vi è piaciuta vi invito ad iscrivervi al mio canale cliccando semplicemente su iscriviti attivate le notifiche cliccando sulla campanella e soprattutto sono graditi i commenti grazie ciao 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 ciao